La seconda volta che facciamo la consegna di questi alloggi, altri alloggi sono stati consegnati qualche anno fa, ne faremo a breve un altro bando, credo intorno a una ventina di giorni, per la consegna di altri sei alloggi all'interno del centro storico e poi ci saranno anche la realizzazione di altre case a posto dei prefabbricati, quindi si ripulisce la zona, purtroppo ancora questi prefabbricati, il terremoto, saranno realizzate altre dieci strutture, parte serviranno per coloro che oggi vivono all'interno dei prefabbricati e qualcun altro naturalmente per persone che avranno l'esigenza e il bisogno di questa casa. Credo che sia importante non soltanto vedere gli alloggi come un qualcosa da dare a chi attende così inutilmente nella speranza dello Stato, ma sia anche la possibilità di rendere queste case per giovani coppie, per famiglie che non possono e soprattutto per dare un decoro alle nostre comunità.